Buongiorno a tutti, noi siamo del marchio Amemi, un marchio che nasce da noi due, che siamo due fratelli, Rachele e Niccolò, un marchio diretto ai giovani, quindi una linea giovanile fatta di pochi pezzi, molto semplici, magliette di varie tinture di colore, in cotone, molto morbide, come ad esempio questa, con questo particolare del profilo bucato, oppure quest'anno proponiamo anche il pisto, il pisto che è molto importante perché quest'anno è vera moda, sempre con un davanti di pieno cotone. Proponiamo delle borsi in materiali naturali, come questa, puro lino 100%, e queste qui invece in caociù, molto morbide, tinte, quindi in varie tonalità di colore, e molto semplici. Quest'anno il grande pezzo forte è stata questa sciarpa ad anello, quindi molto abbondante, col pisto si può portare a giro collo, oppure molto più morbida. Grazie. Grazie.